salve a tutti carissimi miei brothers and sisters bentornati in questo spazio dove avevo detto che mi sarei preso un tempo avrei invitato voi a prendervi un tempo sino a lunedì di ascolto vorrei solo così anche per per mancanza mi mancavate lasciarvi un frammentino una mail molto bella che mi è appena arrivata e spero che ci aiuti ad entrare più felici più sereni più attenti nel fine settimana poi ci vedremo probabilmente lunedì ve la leggo è una condivisione di un fatto accaduto con una domanda che mi è stata rivolta io la giro anche a voi nei commenti rispondete condividete mettete ciò che sentite cercate di essere di vibrare in sintonia con questa bimba altrimenti temo che mettete ciò che sentite trasformate trasformate se è pesante se è negativo provate a trasformarlo a trasformarlo come hanno fatto queste persone che adesso adesso vi spiego allora un amico che segue questo spazio mi scrive buongiorno Pierluigi ti vorrei girare una domanda che mi ha fatto mia figlia di nove anni sabato scorso vista la bella giornata ho portato i miei due figli più piccoli a fare un giro in città premetto che noi abitiamo in un piccolo paese sotto le splendide alpi apuane e specialmente in questo periodo quando usciamo per lo più facciamo camminate in montagna sono molto restio ad andare in città mi da noia e dispiacere vedere persone con mascherine oltretutto piuttosto tristi comunque sabato siamo andati in città dopo aver passeggiato per qualche minuto ci siamo imbattuti in un flash mob organizzato da persone dello spettacolo e dagli studenti dell'istituto superiore di studi musicali mia figlia vedendo persone di ogni tipo bambini ragazzi mamme persino anziani che ballavano sulle note di una famosa canzone ha sparancato gli occhi dicendomi papà come mai quelle persone sono senza mascherina e ballano e ridono guarda guarda quei due bimbetti giocano insieme ma allora vuol dire che le persone sono tornate normali io sono rimasto lì a guardare il suo volto sorridente però una risposta alla sua domanda non sono riuscito a darla ecco la domanda che ci viene rivolta sono tornate normali ma bene che non hai risposto a tua figlia perché noi rispondiamo bugie è un momento è una danza è un momento di gioia queste persone stanno trasformando l'oscurità in luce la pesantezza in leggerezza l'inquietudine in serenità ma lo fanno alcune persone cosa possiamo rispondere noi cerchiamo sempre di definire vi ricordate quante volte abbiamo detto i bimbi fanno delle domande per aprire la loro visione è una comunicazione di meraviglia la meraviglia che secondo i grandi filosofi della grecia antica ha generato la filosofia l'interrogazione la domanda la logica l'intutto ecco noi cerchiamo di dare risposte alla meraviglia ai bambini e così ecco che la cosa viene definita cosa è giusto cosa è sbagliato cosa succederà e guardate ma cosa ne sappiamo noi abbiamo creato noi questa società anormale questa follia molti di noi non ne hanno nemmeno la minima percezione sono convinti di vivere nel miglior modo mondo possibile e diamo anche le risposte su quel che sarà certo perché lo sappiamo certo questo è il modo migliore per non mettere in discussione noi stessi e fare istante dopo istante vita nuova provare a dare il meglio a dare leggerezza a danzare danzare non solo in piazza questo è un un simbolo è un momento noi possiamo danzare nei lavori che facciamo in base alle relazioni che costruiamo ai pensieri che doniamo pensieri di creatività di apertura di gettare ponti laddove ci sono conflitti questo lo si fa istante dopo istante mettendosi in discussione cercando di capirsi capire l'altro invece le risposte le persone stanno tornando normali cosa possiamo dire o scoraggiarci no guarda è solo un momento proprio perché stiamo vivendo un momento pessimo hanno organizzato questa cosa e così avresti spento il sorriso di tua figlia dando questa risposta e avresti l'avresti condizionata ad una visione sfiduciata ma possiamo anche dire le bugie bianche che sono peggio delle bugie nere cioè no è un momento le cose cambiano sempre vedrai che andrà tutto benissimo sì sì andrà tutto bene certo non è vero sono falsità noi non sappiamo cosa sarà fra un mese tre mesi possiamo fare delle previsioni ma non ci interessa le persone cercano sempre di gettare una colorazione al futuro anche se è negativa pensate pensateci bene anche coloro che vedono sempre negatività in un certo senso si si rassicurano perché pensano beh io so cosa accadrà no no non lo sappiamo perché magari il tuo nero in realtà è bianco rispetto a quello che accadrà può succedere molto di peggio abbiamo questa attitudine viziata di cercare di sovrapporre noi stessi al futuro l'unica cosa su cui possiamo lavorare l'unica cosa su cui possiamo dire qualcosa è il presente oggi cosa ho fatto come sto come mi sento sto trasformando la mia pesantezza la negatività ma non nel futuro il mondo il mondo è più grande di noi sto trasformando nelle mie azioni la negatività che magari percepisco intorno si no allora voglio cambiarla voglio essere un punto di luce il punto di luce la fiammella può accendere altre fiammelle coloro che gettano sul futuro risposte andrà benissimo andrà malissimo si stanno ingannando noi possiamo fare quel che c'è dato in questo istante punto quindi la cosa migliore forse che non so se l'abbiate fatto la cosa migliore che avresti potuto rispondere a tua figlia era metterti a danzare portarla a ballare portarla a giocare con quei bambini questa è la risposta mia non so se le persone torneranno normali alcuni grazie a questo periodo di follia stanno ampliando la loro consapevolezza altri stanno iniziando ad accenderla perché prima non erano molto accesi altri ahimè stanno facendo la fine della ranna bollita di chomsky si stanno adattando all'alienazione non vedono nulla di problematico quindi io credo che l'unica cosa che possiamo fare è scegliere istante dopo istante se essere le persone imbavagliate disperate rabbiose o assonnate che non vedono nulla oppure se danzare istante dopo istante se sorridere se abbassare la mascherina buttarla nel vate soffate e esserci offrire il nostro volto non arrabbiati perché vedo anche persone che magari girano senza mascherina ma è quasi una sfida hanno l'inquietudine perché sai che molti ti stanno guardando male che vorrebbero mettertene due e quindi è come una guerra vivi senza quella maschera con la musa ruola ma danzando condividiamo un sorriso il sorriso può essere contagioso il volto senza maschera arrabbiato vibra allo stesso livello alla stessa frequenza di energia di colui che ce l'ha sul volto la maschera ed è arrabbiato ed ecco che facciamo il gioco che magari in questo in questo periodo vediamo per l'ennesima volta riproposto della guerra fratricida come vediamo tra israeliani e palestinesi è la gioia la danza che riesce che può spezzare questa follia non so come andrà però per oggi so che posso scegliere di danzare provare almeno a danzare bene miei brothers and sisters e anche il caro babbo che mi ha scritto vi mando un carissimo abbraccio e vi auguro una meravigliosa danza un fine settimana danzante festante ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti